buona domenica buona terza domenica di avvento ecco il vangelo che ascolteremo in questa terza domenica di avvento ci presenta l'azione evangelizzatrice di giovanni battista si dice che giovanni evangelizzava il popolo ecco giovanni è colui che evangelizza soprattutto e non solo indicando la strada della conversione attraverso il battesimo di acqua che egli stesso celebra e amministra ma poi dobbiamo dire che evangelizza soprattutto perché proclama senza reticenza la superiorità del battesimo dello spirito la conversione annunciata dall'azione evangelizzatrice e dal battesimo che giovanni amministra trova applicazione in alcune scelte concrete sono scelte concrete di vita che nascono da una domanda ripetuta quasi con insistenza nel vangelo di oggi da categorie di persone molto diverse che cosa dobbiamo fare quante volte anche a noi sacerdoti è rivolta questa domanda che cosa devo fare allora quello che si deve fare per essere pronti ad accogliere il signore che viene si esprime innanzitutto nella carità immediata e necessaria che si fa carico dei bisogni dei fratelli e delle sorelle dinanzi a chi non ha si deve provvedere qui credo sia giusto fare riferimento a quell'osservazione così azzeccata del nostro presidente della repubblica che circa un mese fa parlando della situazione di tutti i migranti che si trovano ai confini tra bielorussia e polonia ha detto abbiamo detto di tutto sull'afghanistan abbiamo detto che andavano difesi aiutati e adesso che ce li abbiamo le porte li respingiamo che cosa dobbiamo fare dunque bisogna farsi carico di chi è nella necessità viene posta da giovanni anche un'altra indicazione giovanni esige onestà che impone l'esclusione di una logica di possesso e di latrocinio non si deve esigere più di quanto è fissato parla così a coloro che sono pubblicani a coloro che raccolgono le tasse ma poi c'è una terza indicazione va superata qualunque forma di predominio e di oppressione dove si afferma la logica del potere coercitivo bisogna accontentarsi del proprio stipendio dice il battista ai soldati che lo interpellano ecco questo è il suo battesimo di conversione battesimo di acqua ma poi giovanni annuncia anche il battesimo nello spirito afferma la superiorità del battesimo di gesù rispetto al battesimo di acqua che lo prepara vedete il battezzatore che non si ritiene degno neppure di assumere il ruolo dello schiavo così sentiremo nel vangelo non si ritiene degno neppure di essere schiavo di gesù ecco il battesimo nello spirito è la manifestazione del giudizio definitivo di gesù sulla storia e sulla vicenda di ciascuno di noi il battesimo nello spirito è un battesimo discriminante se già il battezzatore ha potuto porre un insegnamento discriminante e correttivo di molteplici comportamenti sbagliati tanto più l'azione di cristo nella storia si presenta ed esige una conversione radicale e produce la vera purificazione delle menti e dei cuori è una parola difficile quella che diciamo quando affermiamo conversione ma è la strada necessaria per non eludere il messaggio del vangelo ma è la strada necessaria per non eludere il messaggio del vangelo ma è una strada necessaria per non il vivere il messaggio del vangelo Grazie a tutti.